ciao ragazze ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è il mio compleanno scusate sono un po raffreddata c'è un po di tosse e quindi vi farò vedere porterò con me in questa giornata sono a casa di mamma perdonatevi per tutti i panni di trosto nel bagno e faremo delle cosine oggi comunque nulla di eclatante non abbiamo organizzato nulla anche perché abbiamo c'è un periodo in cui abbiamo avuto un pochino di problemini personali poi magari più in là vi racconterò però comunque qualcosa faremo perché bisogna sempre comunque festeggiare e una cosa però vi volevo far scoprire che mi sta piacendo tantissimo perché in questo periodo non ho tantissima voglia di truccarmi o magari se siete di fretta o per trucchi quotidiani ho scoperto questo multi balm che praticamente è un ovviamente vegan bio tutto naturale che praticamente si può multifunzionale si può utilizzare sia per le labbra sia per il brush che per gli occhi e mi dovete credere fa un effetto veramente bellissimo sul trucco cioè veramente potete truccare solo con questo quando proprio andate di fretta ci sono anche varie varie colorazioni dopo vi faccio vedere che anzi lo faccio vedere ora che si sgancia con una mano vedete si sgancia quindi praticamente potete anche prendere varie colorazioni e così non sprecare tanto pecche anche una bella cosa ecologica questo fa parte della skin care coreana che io vi ho sempre parlato anche dei prodotti della skin care dopo magari ve li faccio vedere comunque è bellissimo io ho scelto questa colorazione che si chiama berry beautiful sono tutte belle lo metto un po così poi ovviamente oltre a colorare contiene tantissimi ingredienti che fanno bene alla vera burro di carité oli vegetali naturali poi potete o con le dita o mettete un pochino così e fate questo effetto blushino ma viene un trucco veramente bello non c'è questo effetto io e siete a posto un po anche come ombretto io spesso utilizzo il blush come ombretto però con questo qua mi trovo ancora meglio perché viene un effetto super naturale poi dura perché essendo che è stick non è polvere quindi dura durante il giorno guardate quanto è bello potete e dosarlo quanto volete veramente bellissimo l'effetto mi piace un sacco da subito un aspetto sano e voi ve lo potete portare anche dietro tipo per esempio se andate a scuola al lavoro e magari vi vedete un po sbiancate un po smorte il trucco che diciamo sta andando via e ve lo mettete è veramente bellissimo e oltre a essere un balsamo labbra colorato e ha anche proprio la funzione di un balsamo labbra quindi nutriente rimpolpante è bellissimo mi piace un sacco guardate la differenza da prima a dopo comunque una promo fantastica per voi sulla sito della skin care coreana che sapete che amo questi prodotti soprattutto per la doppia detersione sono tutti naturali bio e vegan e vi rendono la pelle super pulita vi eliminano tutti i pori punti neri ho il 43% di sconto senza spesa minima quindi se voi voleste provare anche solo questo potete farlo dura pochissimi giorni questo codice ed è il codice più grande che ho avuto 43% Carlita Special vi metto il link in box informazione vi consiglio di fare scorta perché praticamente è quasi un 50% quindi pagate tutto quasi la metà vi consiglio un po dei miei preferiti oltre a questo vi straconsiglio anche la maschera la vitamina c che ho fatto proprio stamattina e infatti ho quasi finito questa è una maschera super purificante che elimina proprio tutti i punti neri restringe i pori anche contro le macchie della pelle infatti me la sono anche ripresa vi faccio vedere me la sono ripresa perché l'ho quasi finita vi faccio vedere qua il lavandino sono tutti i prodottini che mi sono portata da mamma anche la mousse questa ve la straconsiglio il burro struccante per la doppia detersione utilizzo il burro struccante e la mousse però mi è finito comunque prendetelo perché ottimo scioglio tutto il trucco poi vi lavate con questa che anche io l'ho finita è buonissima è una mousse che fa una schiuma adesso ne metto un po qua vi faccio vedere guardate che bella schiuma fa una schiuma dopo ovviamente la utilizzerò per lavarmi le mani super soffice la maschera vitamina c me la sono ripresa perché l'ho finita e poi anche tutti i sieri io li adoro questo qua the glow hero è ottimo questo è un siero che serve proprio per impolpare la pelle eliminare le macchie punti neri le imperfezioni le impurità questo anche l'ho finito all'acido alluronico e poi la crema giorno e la crema notte sono ottimi veramente sono ottimi quindi approfittate perché questi prodotti la skin care coreana non saranno mai più così scontati carlita special vi metto il link in box informazione e provate mi raccomando il nuovo multi balm vedete quanto è bello è buonissimo e fate un trucco poi vi dura tantissimo ne basta veramente poco e ci sono anche varie nuance vedete lo sganciate come vi ho detto aspettate ecco qua con una mano è difficile e potete inserire anche le altre colorazioni e quindi avete praticamente più multi balm ad un prezzo veramente piccolissimo a che fate fatto da fia a lui Quante cantelline Canti amuri a te Canti amuri a te E sta felpa bellissima Uno dei regali Dei miei amici Adoro Poi c'è anche questo Bracciale Con la manina di Fatima Aspettate Bellissimo Adoro Guardate che bello questo Angelo custode Filo Che c'è? Filo Andiamo venuti a fare una passeggiatina A Ponsori Guardate che bello C'è anche gente che fa sport Facciamo un bel pranzetto Sul mare Vero amore? Pranzetto Ci ha presi la pizza E mi ha presi gli occhi Buon appetito Come sono? I magazzini Carlita Shop Guardate che meraviglia Che bontà Oggi è il mio compleanno E stiamo preparando i pacchi Pieni di cose belle Perché c'è lo sconto Del 25% Magari lo estendiamo Anche oggi così Anche voi di Youtube Potete approfittare Facciamo 24 ore Con il codice Auguri Carlita Oltre al 25% Quindi Approfittate Perché è veramente Uno sconto che non c'è mai Tantissime sorprese Guardate qua Oltre a cioccolatini E caramelle Le mini taglie Tantissimi regalini Campioncini Queste sono tutte Maschere Maschere Patch Burro cacao Tantissime sorprese Campioncini E cose Bellissime Per voi Il regalo Quindi Acquistate Mi raccomando Approfittate per prendere I prodotti Carlita Beauty E tutto Perché è tutto Super super scontato Guardate quanti bei pacchi Adesso metto Anche il cofanetto Adesso metto Tutte le Sorpresine Regalini Caramelle Campioncini Tantissime Caramelle Nei vostri pacchi Guardate Che meraviglia Mmm Cioccolatini Campioncini Cacchina Abbiamo fatto un po' di spedini Spedina Spedina Pesciolino Soglialetta per Daniel Fresca Per il salmone Poglio dare un precioso Zuppa Di fagioli Bell'album E poi proprio questo Beh non light Però magari Se ci ne voglia Di fare la pizza Perché sono i nostri preferiti Troppo buoni Burro da raghi De banana Tortellini E Tortellini La yoke Bisogna già fare gli spinaci Super light Per oggi Perché ovviamente Ci siamo scofanati Nel fine settimana E qua c'è la nostra torta di mele Buonissima Che veramente Mi sta piacendo tanto La stiamo preparando Per la colazione E dura tantissimi giorni Quindi anche se la preparate Se volete la ricetta Ve la scrivo Casomai Chiedetemelo nei commenti Comunque è buonissima Ed è light Troppo buona Piace anche ai bimbi Top